Ora tocca a te rispondere a queste novità perché sei quello più addentro in rapporti con la Ciluca Gara storica, che notizie ci porti di questo Ville Lucchesi? Bucche cuscite Bucche cuscite nel senso, no allora È stata qua da noi ospite, la Sandra Paterni La scorsa settimana, una gara che ci sarà comunque nei giorni 29 e 30 di giugno Quindi venerdì e sabato, la Coppa delle Ville Lucchesi Quindi la prima edizione, una bella scommessa per l'Automobile Club Lucca Posso solo dirvi, chiaramente top secret le prove speciali Però c'è già un, vogliamo chiamarlo un ventaglio, di piloti delle moderne che è interessato a partecipare con vetture storiche Io credo che alla fine saranno diversi i piloti moderni che parteciperanno alla gara C'è un gran parlare di questa gara, è uscita la notizia da poche settimane Non c'è niente di certo ancora se non la data e già se ne parla, quindi ho un bel sentore Quindi sette mesi prima fa un po' te Eh direi, direi che insomma